Può essere lungo, corto, macchiato, ristretto, americano, doppio, qualsiasi cosa tu voglia, ma sto parlando di caffè Cosa fai infatti quando ti serve energia? Caffè Cosa fai quando devi affrontare la sessione? Ancora caffè E cosa fai quando devi terminare magari un progetto di lavoro? Ma perché non del caffè? Tralasciamo l'impatto socioambientale che comporta la produzione di caffè Anzi, per favore, vi consiglio, quando acquistate del caffè, provate a trovare delle marche marchiate Fail trade biologico Perché infatti vi vorrei parlare dell'utilità di bere il caffè la mattina Secondo voi il caffè ci aiuta la mattina? Dipende Perché? Ti spiego La mattina il nostro corpo produce automaticamente un ormone che ci aiuta a risvegliarsi Questo fantomatico ormone si chiama cortisolo Conosciuto anche come ormoni dello stress Povero, perché fa molte altre cose però E il cortisolo attraverso una serie di azioni, reazioni, bla 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 Spinge il nostro corpo a mettere a disposizione energia Che ci permette di svegliarci, essere pimpanti, fare un botto di cose, wow Quindi quando noi ci svegliamo e pensiamo Ok mi vado a fare una tazza di caffè perché mi devo svegliare In verità il nostro corpo già sta facendo ciò che il caffè farebbe per noi Per questo è controproducente bere del caffè Perché il caffè stimola la produzione di cortisolo Ma dato che il livello di cortisolo è già alto Non fa altro che inibire l'effetto del cortisolo Cioè ci stiamo autosabotando Quindi quando è che devi bere il caffè? Un'oretta dopo che ti sei svegliato Quando il livello di cortisolo ormai non è al picco E quindi puoi ribilanciarlo Ma ricordati che il cortisolo è un ormone che ci accompagna lungo tutta la giornata Con dei picchi per esempio durante la giornata E dei minimi durante la serata Perché devi andare a dormire, non hai bisogno di energia No? Altra cosa Il caffè stimola anche la produzione della gastrina La gastrina va ad agire sull'attività del colon E lo fa essere appunto più attivo Quindi se qualcuno di voi quando beve caffè sente questo Insomma bisogno di correre al bagno Tranquillo È tutto ok Il tuo colon sta bene Sta semplicemente lavorando Perché tu dai Input Qualcosa entra Qualcos'altro deve No? Ok